C'era una volta, in un paese lontano, un bellissimo regno dove tutti vivevano felici. E c'era una volta Zezolla, una bellissima e umile bambina. Era l'unica figlia di un dolce mercante e della sua amabile moglie. La casa aveva molti servi trattate con dignità e rispetto. Chi cucinava, chi puliva, la casa era così grande che l'aiuto non bastava mai. E la madre insegnò a Zezolla a dare sempre una mano, perché il più piccolo topolino non valeva meno di un buon gesto. La mamma morì di tubercolosi e Zezolla soffrì più che mai. Venne sepolta ai piedi di un salice piangente e la piccola pianse e pianse sulla lapide ogni giorno. Vedendola così disperata, il padre decise di sposarsi con la donna più gentile che potesse trovare, perché la piccola trovasse un po' d'amore. Ma la nuova moglie non fu mai gentile con la piccolina. Il padre e la matrigna non riuscirono a strapparle un sorriso mai, ma anche quando la bambina voleva un po' di coccole dal papà, la matrigna la tirava via e le diceva di non fare la piccicosa. La cosa più vicina a una mamma che Zezolla avesse era la maestra, la maestra carmosina che le insegnava a cucito, ma anche a leggere, a scrivere e a comportarsi. Zezolla e la maestra soffrivano insieme nel vedere che il papà aveva sposato quella brutta strega. La bimba diceva sempre alla maestra, «Ma perché non sei tu la mia mamma?» Finché un giorno la maestra non disse alla bambina, «Di sopra c'è un baule di legno pesante, 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 lo ricordi?» «Lì dentro ci sono i vestiti della tua mamma e uno di quelli è davvero, davvero bellissimo!» «Lo vuoi vedere?» La bimba ricordava il vestito più bello della mamma e c'era molto affezionata. «Allora chiedi alla tua matrigna di agliotarti. Il baule è pesante, ma è anche profondo. Se tu, Zezolla, tieni il coperchio. Mentre la matrigna ci infila la testa, forse riesci a prenderlo sul fondo!» E felicissima, raggiante di gioia, Zezolla decise che voleva vedere il vestito della mamma. Così insistette, insistette più che poteva per chiedere alla matrigna di darle una mano. La matrigna le fece il favore e alzò il coperchio pesante, ma non riusciva a toccare il fondo del baule. «Te lo tengo io!» disse Zezolla. E la matrigna riuscì a toccare il fondo in cerca del vestito. Il coperchio era davvero, davvero pesante e la bimba faceva fatica a non farselo scappare. E PAM! Il baule si chiuse e tranciò la testa della matrigna. La piccola pianse, pianse disperata e spaventata. Povera la piccolina, sia lei che il padre entrarono in lutto e la piccola Zezolla ebbe tanti, tanti sensi di colpa. La maestra Carmosina bruciò tutti i vestiti della mamma perché sporchi è del sangue della matrigna. E la bimba ne soffrì tantissimo, perdendo tutti i vestiti con l'odore della mamma. Però non c'era traccia del vestito più bello. Il padre partì per un lungo viaggio e poi tornò. Era stato in Sardegna e aveva portato un dono per la piccolina. Una zappa, un secchietto d'oro e un asciugatoio di seta. Servivano per prendersi cura del salice dove era sepolta la mamma. E Zezolla fu felicissima di dedicare al salice un'oretta al giorno con la zappa, col secchietto d'oro e con l'asciugatoio di seta. La maestra Carmosina sposò il padre e la maestra divenne la nuova matrigna. La matrigna però aveva anche sei figlie femmine. Tutta felice e Zezolla sperava di giocare con le altre bambine e di vivere felice con la maestra come una matrigna, insomma. Ma le bambine non volevano giocare con lei perché curava il salice come una sporca serva. Era strana. La spintonavano, la prendevano in giro. La matrigna era molto protettiva verso le sue figlie e tutte le volte era colpa di Zezolla. La più grande era Imperia che amava comandare e odiava i ritardi. Calamita, la seconda, pensava sempre al matrimonio. Fiorella, la terza, amava i gioielli, i vestiti e odiava la lettura. Invece Diamante, la più bella di tutte, non amava che se stessa. Colombina era la più dolce quando voleva ottenere qualcosa. E Pascarella, infine, la più piccola, strillava e alzava le mani. Erano tutte di bell'aspetto ma anche antipatiche ed egoiste. Zezolla, facciamo così. Non c'è spazio per tutti in casa. Che ne dici? Vuoi lasciare la tua stanza alle tue povere sorelle solo finché non prendiamo un altro letto per loro? E così Zezolla, per gentilezza, si spostò a dormire per un po'. da un'altra parte. Non trovando un angolino che fosse sia soffice che caldo, finì per dormire davanti al focolare. Il padre partì per un lungo viaggio ma stavolta la sua nave non tornò mai più in porto. Dopo la morte del papà, Zezolla non riuscì a riprendersi. Senza soldi non arrivò... non arrivò mai il momento di riprendersi la sua stanza e continuò a dormire nella calda cenere del camino. Di che vivremo? Diceva sempre la matrigna e dovette licenziare sempre più personale per risparmiare. Era forza maggiore, dopo tutto. Man mano che i servi se ne andavano, Cenerentola rimase l'unica a pulire la casa per tenere vivo l'ultimo ricordo della sua famiglia felice. Sì, Cenerentola, è così che inizieranno a chiamarla, perché ogni mattina era sporca di cenere. Le sorelle mettevano i suoi vestiti, giocavano e rompevano i suoi giocattoli perché tanto lei lei non li usava mai. Cenerentola, Cenerentola, cara! Noi siamo ospiti in questa casa, dopo tutto è tua. Che cosa ci prepari per cena? Oh, Cenerentola, non è che sai per caso dove sono le scope? Cenerentola, cuci questo abito, ti avevo insegnato a farlo, no? Cenerentola, non voglio disturbarti, ti disturbo? Oh, ti disturbo. Cioè, c'è questa cosa? Non è che proprio non so come fare, mi dai una mano? Cenerentola, fai il bucato, non è che non è che con i tuoi panni puoi farmi anche i miei, per caso? Un favore alla volta, Cenerentola faceva giusto uno, due favori per ogni sorella e un paio per la matrigna, ogni giorno. E se Cenerentola diceva di no, glielo chiedevano più tardi. e se ancora non lo faceva, ecco che si lamentavano. Cenerentola, ma mi serviva questa cosetta, non è proprio il tempo di farla? Oh, purtroppo, purtroppo proprio non posso farla io, ma è urgente. E di giorno in giorno chiederle un favore era sempre meno un caso e sempre più un'abitudine. Il tempo libero che le restava era dedicato a curare il salece con i doni del padre. Cenerentola divenne una bellissima signorina e lo divennero anche le altre sorellastre, Imperia, Calamita, Fiorella, Diamante, Colombina e Pascarella. I favori aumentavano e ogni mattina iniziava la routine. Cenerentola, Cenerentola, Cenerentola! E se Cenerentola si lamentava, eh, Pascarella trattiva per un favore, io a casa mia ho imparato che in famiglia ci si aiuta, ecco. e se Cenerentola diceva, scusi, mi potrebbe fare un favore? Le rispondevano, ma, 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 io non lo so fare, se tu l'esperta per correttezza dovresti chiedermi qualcosa che so fare. Noi, a te, chiediamo solo cose in cui sei esperta, Cenerentola! E appena si sedeva un attimo, Cenerentola! Di giorno e di notte in casa all'aperto, Cenerentola, Cenerentola, Cenerentola! Cenerentola! E tutte le sere tornava al salice della madre con la zappa, il secchietto d'oro e l'asciugatoio per tenerlo con cura, finché una sera non li trovò più. Madre e sorelle, avete visto che fine hanno fatto le mie cose? Le abbiamo vendute, cara. Non è egoista da parte tua avere un secchietto tutto d'oro mentre noi siamo in miseria e rischiamo di morire di fame? pensa un po' agli altri e non solo a te stessa, Cenerentola! Insomma, un po' di dignità! E poi, puoi tranquillamente usare un secchietto di rame o anche meglio un secchietto di legno! Cenerentola non pianse, pensò che fosse corretto e anzi, si sentì in colpa per averlo tenuto tutto per sé. A castello, il re stava invecchiando triste e solo. La sua più grande gioia era che il principe era tornato dalla guerra ed era il caso di proclamare una festa. Imperia, Calamita, Fiorella, Diamante, Colombine, Pascharella erano tutte eccitate all'idea di un ballo perché la festa era per tutto il popolo e tutti quanti erano invitati e quindi anche Cenerentola. Tutte felici corsero a cercare i vestiti più belli. Cenerentola però solo allora si rese conto che non ne aveva. Tutti i suoi vestiti, quelli che usava da bambina, non le stavano più e le sorellastre non le prestavano una calza, figuriamoci un vestito. Lei aveva solo stracci con cui si occupava di tutta la casa, erano stracci sporchi o al massimo rotti, svalciti. La matrigna insistette che certo che puoi venire Cenerentola ma hai fatto le tue faccende. ricorda che oggi si era deciso di ripulire la soffitta. Ma madre non abbiamo mai ripulito la soffitta. Appunto per questo ti eri offerta di farlo, non ricordi? Ma madre io veramente solo tu puoi farlo. Non erano cose tue e di tue padre quelle in soffitta, no? Ah, erano vostre e allora tocca a te. E Cenerentola passò la giornata nella polvere in soffitta. mentre le sorellastre si agghindavano e ridevano preparandosi al ballo. Quando tutta la soffitta era rassettata e pulita, Cenerentola trovò sorpresa in un vecchio comò il vestito più bello della mamma, quello che aveva tanto cercato da bambina. Non era proprio la sua misura e le scarpe troppo grandi. Beh, ma era un vestito, era elegante ed era importante per Cenerentola e fu così che si pettinò, si agghindò per il ballo e con le altre sorelle si preparò per andare. Ma ecco la matregna. Tesoro, mi sono candute le lenticchie, mi dispiace, scusami, non è che potresti raccoglierle? E Cenerentola vide migliaia di lenticchie sparse sul pavimento della cucina, erano incastrate fra le piastrelle in ogni angolino. Devi raccoglierle tutte, cara, o verranno i ratti? E Cenerentola attenta a non sporcare il vestito iniziò a raccogliere da terra tutte le lenticchie e fu Diamante la sorellastra che, oh, inciampò sulle lenticchie e quasi cadeva a fortuna che si era appoggiata accidentalmente a Cenerentola. E così Cenerentola cadde nella cenere e sporcò il vestito. Si poteva rimediare, si poteva rimediare. Cenerentola cercò di pulirsi. Cenerentola non penserai di venire con quel vestito? Non vi preoccupate, madre, si pulisce. Certo, certo, ma è tutto sgualcito. Ma dove, madre? Qui, guarda! E la matregna strappò un merletto. E poi anche qui, vedi, e la matregna strappò una manica. Oh, che sbadata, forse ho aperto un po' la cucitura. Ma Cenerentola non si fermò. Si poteva rammendare in carrozza. Vieni qui, cara, ti do una mano, fammi fare luce. E la matregna prese una candela per vedere dove fosse scucito e, ups, la fiamma troppo vicina diede fuoco a una balza. Cenerentola corse al pozzo ma non fece in tempo, si buttò a terra e spense il fuoco sgualcendo ancora di più il bel vestito. Il più bel vestito che la mamma aveva. E la carrozza intanto era partita. Cenerentola pianse, pianse e pianse sulla tomba della madre e pianse sotto il salice e pianse più che mai. Perché piangi, bambina? chiese il fantasma. Lo spirito della madre era uscito dall'albero e parlava con Cenerentola e la vedeva bene in viso. Ti sei presa tanta cura di questo albero e di questa casa e ti meriti un dono. E sull'albero Cenerentola vide appeso un abito d'oro con una grande gonna e due scarapette d'oro eleganti e scintillanti. Fu così che Cenerentola andò al ballo vestita luccicante e fece un figurone. Tutti guardavano lei e nessuno conosceva quella ragazza. Mai la si era vista in paese. Attirò tanto l'attenzione che il principe stesso provò a parlarle. Parlarono e ballarono e risero e si amarono. Ma poi il principe chiese da dove venisse come si chiamasse e la fanciulla si spaventò e così corse via da sola fuori dal palazzo e poi nella foresta e corse corse fino a casa dove misi le scarpette e il vestito dorato in un vecchio baule in soffitta. Poi Cenerentola si rivestì di stracci e scese in cucina dove tanti uccellini stavano raccogliendo lenticchie con il loro becco fine e le rimettevano a posto una ad una nel sacco dei legumi. Poi gli uccellini rivolarono al sale dove stava il loro nido. La matrigna e le sorellastre tornarono dal ballo infuriate. Nessuna di loro aveva trovato un marito ricco e nobile e odiavano odiavano alla follia quell'oca giuliva che si era cuccata il principe in persona. Stupida altezzosa era di sicuro una qualche nobile spocchioso di altissimo rango. Pensate aveva un vestito tutto d'oro Oh Cenerentola quando sei scappata via abbiamo pensato che non volessi più venire e siamo partite mi dispiace ti dispiace Oh che brava cara hai raccolto tutte le lentiche brava Cenerentola brava tieni un biscottino ma Cenerentola non sentiva pensava solo al ballo e al principe e al fatto che che la festa durava altre due notti e che quella sera lo avrebbe rivisto. La seconda notte non fu diversa dalla prima Cenerentola lasciò partire la famiglia e poi corse in soffitta a prendere il bel vestito dorato ballò col principe parlarono e tutto sotto l'occhio vigile della matrigna che nascosta in un angolino cercava di capire se quella fosse Cenerentola ma impossibile non c'era molta somiglianza ma il dubbio restava e la matrigna l'ha persa di vista disperata cercò ovunque questa ragazza misteriosa non la trovo più che era successo? la fanciulla era corsa via era corsa via all'improvviso Cenerentola era scappata appena il principe aveva notato che le sue mani non erano quelle di una principessa ma di una lavoratrice la terza sera Cenerentola aveva paura di uscire le sorelle erano più infuriate che mai perché non avevano trovato marito e la matrigna aveva troppi sospetti come l'altra sera aspettò che la famiglia partisse per correre in soffitta trovare il vestito d'oro e restare bloccata per qualche motivo in qualche modo la botola non si apriva più furono gli uccellini che vivevano sul salice a portarla in volo fuori dall'abbaino e così Cenerentola riuscì ad andare di nuovo al ballo incontrò di nuovo il principe ballarono di nuovo e parlarono di nuovo a mezzanotte precisa il principe le disse che voleva sposarla e lei di nuovo corse via e corse corse attraverso le sale del palazzo e poi giù per una scalinata e oh il principe aveva sparso la pece sulle scale la colla e Cenerentola era rimasta incollata al pavimento il tempo sembrò fermarsi e ora se il principe l'avesse presa avrebbe scoperto che non era altro che una serva perché intrappolarla per smascherarla certo e se invece fosse perché ci teneva non c'era tempo per capire ma era tempo di decidere la prima vera scelta di Cenerentola e se lui pensasse di avere a che fare con una principessa e quindi ci restasse male nel vedere che lei in realtà era solo una serva era tempo di correre a casa non poteva portare avanti questa paghiacciata e se la scelta fosse di non scegliere e se la scelta fosse di lasciare chi fosse il principe a scegliere di cercarla così Cenerentola si tolse le scarpette e uscì dalla pece poi staccò una scarpetta dal pavimento e lasciò l'altra incollata e corse via corse e corse fino a casa e nascose il vestito in soffitta e poi si chiuse dentro quando la matrigna arrivò la trovò ancora chiusa in soffitto madre devo essermi chiusa dentro da sola ero venuta in cerca di nuove faccende da fare e la matrigna le credette o fece finta e se lì in soffitta quella notte di nascosto mentre Cenerentola dormiva e la matrigna trovò in un baule il vestito dorato e una scarpetta dopo pochi giorni il principe lanciò un proclama reale sarebbe venuto in persona in cerca della bella fanciulla che aveva perso la scarpetta le sorellastre le sorellastre impazzirono avrebbero fatto qualsiasi cosa per infilare la scarpetta e così anche tutte le altre fanciulle del regno ma per qualche motivo misterioso nessuna riusciva a infilarci il piede quando il principe arrivò alla villa di Cenerentola lei corse in soffitta per prendere il vestito dorato e presentarsi e non lo trovò era una trappola e stavolta di nuovo era rimasta chiusa in soffitta ma stavolta anche l'abbaino era chiuso a chiave ogni fanciulla del regno dovrà indossare la scarpetta disse il ministro che elencò tutti i punti del proclama imperiale e così diedero la scarpetta alla matrigna carmosina la faccia provare alla prima delle sue figlie Imperia e così Imperia provò la scarpetta le diede un morso e cadde in un sonno mortale ma i nani la chiusero in una tecca di vetro chiamo sbagliata pessima battuta nobile esperimento la faccia provare la prima delle sue figlie Imperia e così Imperia provò la scarpetta proprio non entrava ma la matrigna ebbe un'idea prese una sega e le tagliò un pezzo di tallone Imperia uscì dalla villa tutta felice aveva indossato la scarpetta ma faticava a camminare e il principe disse non è questa la mia sposa la prossima fanciulla Calamita tutta spaventata proprio non riusciva a infilare il piede per fortuna arrivò la matrigna che le tagliò via le dita del piede e la fece uscire camminare camminava ma appena Calamita arrivò davanti al principe questi notò la puzza di sangue che lasciava al suo passaggio non è questa la mia sposa la prossima fanciulla questa famiglia è un problema serio diamine arrivò il turno di Fiorella che con l'aiuto della matrigna usò la pialla da falegname e si rimpicciolì il piede per farlo passare nella scarpetta ma appena uscì di casa il principe vide che i due piedi non erano uguali le chiese di togliere la scarpetta e di rimettersela ma fu troppo dolore per lei e il principe disse oh non è questa la mia sposa la prossima diamante la figlia più bella aveva anche i piedini più fini e piccini e la scarpetta quasi le stava e imburrò il piede e imburrò la scarpetta e riuscì a infilarsela ma appena uscita di casa il piede scivolò e la scarpetta scivolosa la fece finire a terra e persa la scarpetta non la riuscì più a rimettere davanti al principe colombina la più furba aveva per tutto il tempo intrecciato una scarpetta di paglia paglia dorata che era uguale uguale a quella di cenarentola uscita di casa si mise in bella mostra e il principe fu sorpreso di vedere che una dolce donzella l'aveva effettivamente indossata d'altro canto a questa fanciulla il piede prudeva un po' troppo e il principe per gentilezza e per furbizia decise di controllare che la scarpetta fosse a posto e vide subito l'inganno l'ultima feiola Pascarella uscì accompagnata dalla madre con indosso un bel vestito dorato il bel vestito dorato e tutte e due le scarpette tra le mani sua altezza Pascarella si vergognava di non riuscire a rimettersi le scarpette pensando che non l'avreste riconosciuta ma l'altra scarpetta è pure il vestito e lei la fanciulla dell'altra sera ma il principe aveva un po' di dubbi chiese conferma se mi avete ingannato per ben cinque volte perché dovei credervi proprio alla sesta ma sire disse la matrigna chi altri se non la fanciulla con cui danzaste potrebbe possedere il vestito al completo il principe è serio rispose dicendo le sue rapitrici e poi insistette per entrare in casa se la casa è linda e pulita avrete servitrici non vi pare corretto che anche loro la provino la matrigna e le sorellastre trovarono mille scuse scuse su scuse su scuse che loro pulissero che le serve fossero in congedo eppure che fosse assurdo che la donna che cercava fosse una serva ma mentre loro cercavano scuse il principe trovò Cenerentola la portò fuori dalla soffitta le mise la scarpetta e capì finalmente tutti gli inganni il principe la portò a palazzo e chiese a Cenerentola quale fosse la giusta punizione per matrigna e sorelle Cenerentola rispose che non voleva punirle se non con un po' di vergogna nel frattempo gli uccellini si fecero giustizia da soli gli uccellini volarono fuori dai nidi del salice e attaccarono le sorellastre accecandole strappando loro tutti i capelli uno ad uno la matrigna e le orride figlie fuggirono lontano e nessuno le vede più mai più la casa restò a Cenerentola che la fece risplendere più che mai il principe la sposò con il nome di Zezolla e vissero per sempre felici e contenti per questa versione di Cenerentola ho deciso di riunire tante versioni diverse tanto per iniziare la gatta Cenerentola di Basile poi c'è un po' di Rodopi c'è un po' della Cenerentola di Perrault un po' di quella dei Grimm ho cercato di riunire tutte le versioni di Cenerentola che la Disney ha deciso di non adattare sapete no la Disney scelse la versione di Perrault e cercò di trasformarla in una fiaba che fosse godibile da un pubblico hollywoodiano degli anni 50 e beh io ho pensato di raccontarvi tutte le versioni alternative di Cenerentola in un colpo solo certo ne ho evitata qualcuna come quelle in cui le scarpette di Cenerentola sono fatte di pelliccia o quelle in cui un falco magico porta la scarpetta a Cenerentola o in cui non va da un principe ma da un faraone ma diciamo che ho cercato anche di scegliere quelle più interessanti e creare una fiaba che quindi fosse interessante senza aver bisogno di essere fedele a una di queste versioni in modo che fosse interessante per voi anche per scoprire quante versioni alternative sono state scartate dalla Disney e beh tra l'altro i nomi sono presi dalla versione di Basile quindi la Mestra Carmosina Zezzolla e le 6 Sorellastre beh che altro posso dire se non un semplice ditemi che cosa ne avete pensato vi è piaciuto oppure no era un po' strano che ci fossero degli elementi cruenti oppure siete già abituati alle fiabe italiane che sono sempre così e già perché per chi non lo sapesse il Cenerentola è una fiaba antichissima arriva dall'Egitto ma dall'Egitto quello antico gli antichi egizi che altro posso dire se non che la mia versione preferita credo sia quella di Basile ma non disdegno nemmeno quella di Grimm spero abbiate visto Into the Woods per capire da dove ho pregio quantomeno alcuni ragionamenti che Cenerentola fa e alcuni approfondimenti su di lei appunto ho cercato di riunire tutte le versioni che non fossero Disney voi avete mai sentito versioni alternative e i vostri genitori vi hanno mai raccontato versioni alternative? grazie